Mi aspetti qua Adavanti Vengo, ho mandato per tempo Qui segretario di signor Salviati Che c'è Marco? Il signore non c'è, lavora grande film di americani Marco sono io, Simone Simone chi? Ma come Simone chi? Simone è tua gente Ah Simone, ho capito Simone Se non mi dici Simone come faccio a capire chi sei? Marco Marco, ti devo parlare di lavoro, ho una patta per te Bevi qualche cosa? Un cappuccino, grazie Ma che fanno ancora? Pronto qui è il bar Tieni il bar, parlaci tu E che ci devo parlare? Sento in una voce nuova, è meglio Pronto, senta, invia dei frassene dodici Un cappuccino E tu che prendi? Un farnet Un farnet Liscio Ma allora bevi ancora? Ho detto farnet e mi sono sbagliato Va bene anche un mischi bucce Da Salviati un cappuccino e un bicchiere di latte bello caldo, mi raccomando Non mi farà male il digiuno? Da prima mattina Marco Marcuzzo, ma allora non hai smesso di bere? Ma Sivu, com'è sta parte? È un protagonista? E beh, nella tua apparizione L'apparizione che fai è un'apparizione da protagonista Apparizione? Ma che è un film dei fantasmi? No, è uno short pubblicitario dei grandi magazzini Cos'è? Che c'è, chi? di classe se non altro fallo per me anche io non me la passo bene però ti ho sempre aiutato mi vuoi fare riprendere qualche lira almeno il minimo allora chi sarà? qui sarà un bar no? sei sicuro? c'è l'abbiamo donato e sei il padrone di casa? ma perché io padrone di casa lavoro al bar? no ma vuoi l'affitto vabbè ci penso io senti digli che stai a Hollywood e fai un film con laver i cani buongiorno buongiorno bello bene bene cosa qua sopra? quando ti devo? 86 mila 86 mila al latte e in cappuccino? ma veramente sarebbero 86 mila e 600 46 mila e 300 a tazza? no è che 85 mila lire sono superalcollici già bevuti mai pagati ah ah Simone non sta a discutere sui spicci dagli 100 mila tanto oggi lavoro e ti ridono